A una settimana dall'alluvione che ha colpito la città, Crotone è ancora alle presse con la conta dei danni subiti dai cittadini, ma soprattutto dalle attività commerciali e produttive. In questi giorni si sono rincorse gare di solidarietà da tutta Italia, con raccolta fondi da destinare a chi in un periodo già di per sé difficile dal punto di vista economico ha visto la propria condizione peggiorare a causa dell'alluvione. E' quanto scrive il questore di Crotone, Dottor Gambino. Eppure di fronte a tali difficoltà nessuno si è tirato indietro nell'offrire il proprio contributo dai poliziotti ai comuni cittadini. Hanno fatto il giro del web, le immagini che ritraggono alcuni poliziotti della questura di Crotone in precario equilibrio sulla benna di una pala meccanica a puntare diritto al sabbataggio di una donna che con la sua auto ribaltata in un canalone era riuscita ad aggrapparsi ad un palo mentre faceva ecco il suo grido d'aiuto. Scrive ancora il Dottor Gambino, questore di Crotone, sono racchiuse in due lettere indirizzate al questore i sentimenti di gratitudine nutriti dal conducente del mezzo e dalla donna salvata che ha voluto riconoscere non solo il coraggio e l'abilità nell'organizzazione estemporanea dell'intervento ma anche la determinazione, la risolutezza e la rassicurazione che i poliziotti le hanno trasmesso durante tutte le fasi del salvataggio. Nel contempo le operazioni di soccorso si susseguivano senza sosta. In un'altra zona della città, fortemente colpita dall'alluvione personale dei reparti di rinforzo della Polizia di Stato, interveniva con l'ausilio di un trattore agricolo messo a disposizione da un'azienda del Crotonese, riuscendo a mettere in salvo un uomo facendolo fuoriuscire dal finestrino del suo furgone rimasto in pan in più di metro d'acqua fangosa mista a detriti. Una pattuglia della sezione Polizia Stradale di Crotone sulla strada statale 106 in località Marina di Strongoli riusciva a trarre in salvo tre conducenti dalle proprie autovetture con l'acqua che copriva i veicoli per più di metà degli stessi. Gli operatori si ancoravano con una fune alle auto e dopo aver messo in sicurezza i malcapitati si adoperavano con l'ausilio di mezzi agricoli a rimuovere i veicoli dalla carreggiata. Non da ultimo, personale del locale ufficio prevenzione generale soccorso pubblico, in un breve lasso di tempo, dovuto all'emergenza in corso e al possibile imminente crollo di uno stabile in località Boggio-Pudano, permeato da ingenti infiltrazioni d'acqua, riusciva a mettere in salvo circa 80 persone appartenenti a 21 nuclei familiari, facendo evacuare l'intera struttura abitativa. Ebbene, il questore, il dottor Gabbino, ha voluto ringraziare personalmente e con una sua missiva quanti hanno contribuito con i propri mezzi al salvataggio di vite umane, sottolineando come la Calabria ha bisogno di valori imprescindibili, quale lo spirito di servizio e professionalità, e sicuramente queste costituiscono il leitmotiv dell'azione quotidiana della Polizia di Stato.